fuma? Signorina, signorina, lei fuma? Io fumo, perché? Gli lo chiedo, lei fuma? Allora, io ero occupata, no? Le ho fatto una domanda, lei fuma, signorina? Ma che l'intera? Lei se io fumo no? Ma mi risponda, se vuole avere un rapporto amichevole, lei fuma? È una domanda personale, perché deve essere lente? Ah, vabbè, ecco, no, no, non mi risponda pure, ma in caso fumasse, sarebbe una troia fumante. Se fumasse sarebbe una, cioè, lei è troia, ma se fumasse sarebbe una troia fumante. Mi dica, signorina, prego, mi dica, mi faccia la sua proposta. Pronto? Troia fumante? Pronto? La signorina non parla più adesso. Non volevi farmi le domande per la tua analisi.